Senza effetti speciali, senza toni da capopopolo, Mario Draghi nel pomeriggio ha annunciato che si riapre e che poco alla volta ci avvieremo alla normalità. Ha parlato di rischio calcolato, all'inizio si punterà sulle attività all'aperto, lo sport, i ristoranti, ma gradualmente si arriverà alla riapertura anche di palestre, cinema, teatri. A giugno, non vicinissimo, ma finalmente abbiamo una scadenza. Rischio calcolato, perché le vaccinazioni non sono ancora a pieno regime, non ne abbiamo effettuate abbastanza da poterci sentire al sicuro. Rischio calcolato significa che i contagi inevitabilmente aumenteranno, ma si stima che potremo gestirli. Abbiamo abbastanza respiratori, abbiamo abbastanza terapie intensive, abbiamo le cure con cui affrontare subito dai primi sintomi il covid ed evitare che diventi letale. C'è un non detto. Per un anno buono gli italiani sono stati trattati come dei bambinoni, nascondendo le cose e dicendo a rate la verità, facendo gli annunci alle 10 della sera, confidando nel fatto che a quell'ora avessimo già messo il pigiama. La fuga al sud di sabato sera per prendere l'ultimo treno della notte non è roba da bambinoni, semmai è colpa di chi non aveva le idee ben chiare su cosa sia in realtà l'Italia, fatta da centinaia di precari che a Milano fanno i camerieri, i baristi, i pizzaioli, i fattorini, condividendo l'appartamento per riuscire a reggere i costi. Con la chiusura di tutto l'unica soluzione era il ritorno a casa, non perché bamboccioni, ma perché non c'era alternativa. I numeri nelle due settimane successive hanno detto che quelli sul treno non sono stati degli scellerati, si sono chiusi in casa e hanno fatto la quarantena perché il virus a sud in quel periodo non è arrivato. Oggi Mario Draghi ha parlato a un paese confidando nella sua maturità, perché rischio calcolato significa che fino a nuovo ordine dovremo continuare a portare anche all'aperto la mascherina, continuare a lavarci spesso le mani, evitare di toccarci, ma potremo tornare finalmente a fare molte cose che poco alla volta stavamo dimenticando. Un rischio calcolato sul quale ora si calcolerà la nostra maturità, sperando di non perdere la scommessa. Senza ricevuta di ritorno.